Vediamo che cosa è possibile fare con l'area di lavoro di After Effects. L'area di lavoro è lo spazio all'interno di cui stiamo lavorando, che è diverso dallo spazio della sequenza, perché la sequenza è tutto questo spazio, mentre l'area di lavoro può essere ridimensionata. Ora, nel momento in cui ridimensiono l'area di lavoro, sto lavorando solamente all'interno dell'area selezionata, quindi in pratica questa parte che non è selezionata è esclusa dalla mia area di lavoro. La prima cosa per cui è importante sapere impostare l'area di lavoro è per l'esportazione, perché nel momento in cui io vado a esportare, o l'impostazione esporta tutta la mia sequenza, o solo l'area di lavoro, quindi posso esportare solo la sezione che ho deciso che mi interessa. Per ridurre l'area di lavoro si può fare manualmente, oppure ci si può posizionare dove si desidera con il cursore, e si può premere B per beginning e N per end. In questo modo ho selezionato una porzione della mia sequenza, che è la mia area di lavoro. Ora, se vado a cliccare col tasto destro, io ho una serie di opzioni. Ora, tronca composizione secondo area di lavoro è la più utilizzata. In questo modo abbiamo semplicemente eliminato completamente tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo l'area di lavoro. In questo modo ci possiamo concentrare a lavorare solamente sulla porzione che ci interessa. Faccio comanzetta e torno al punto di partenza, e ringrandisco la sessione. Un'altra opzione è asporta area di lavoro. Come potete vedere, la lunghezza totale della sessione è rimasta invariata, e anche l'area di lavoro è rimasta esattamente quella che era prima. Il livello su cui stavamo lavorando è stato splittato, quindi è stato raddoppiato, e rimane visibile quello che c'era prima e quello che c'è dopo l'area di lavoro. In buona sostanza, l'area di lavoro è stata resa vuota, e si può inserire qualcos'altro al suo interno. Annullo quello che ho appena fatto, e vediamo l'ultima opzione, ovvero estrai area di lavoro. Come possiamo vedere, è successa una cosa non così diversa, nel senso che il nostro livello è stato duplicato e splittato, però in questo caso, la porzione corrispondente all'area di lavoro è stata troncata completamente, nel senso che è stata messa a misura nel momento in cui abbiamo selezionato beginning dell'area di lavoro. Vedete che se andiamo a posizionare questo livello alla fine della sessione, è lungo esattamente uguale. Quindi è la stessa cosa che abbiamo visto prima, con la differenza che questa volta il nostro livello splittato è stato portato a misura.